Forte diarrea, febbre e probabilmente influenza. Wow, ma che bravo. Laureato ad Harvard? Lei non è il Oliver? No, Carter, Cecilia. È nella stanza sbagliata, Cecilia. Signora Carter. Mi scusi. Torno fra un paio di minuti. Se le cartelle non sono in ordine succede un caos. Io ho un cancro. C'è un gonfiore. Chiamo un'infermiera. Così ci rivediamo fra un paio d'ore. Si distenda. Sollevi il braccio sinistro e lo metta sotto la testa. È qui? Sì, l'ho sentito questa mattina. Mia cugina è morta di cancro. Non è niente. Faremo un controllo dopo il prossimo ciclo, ma non ha motivo di preoccuparsi. È quello che hanno detto a Donna, ed è morta dopo sei mesi. Stia a sentire, la superficie è liscia ed è mobile, quindi se è un tumore è benigno. Perché dovrei crederle, scusi? Vuole liberarsi di me alla svelta? I rischi di un falso positivo in una biopsia sono frequenti. Se non mi fa subito la biopsia, vado a parlare con il suo superiore. Lei è il dottor House. Bene, facciamo la biopsia. Grazie.